Il PIL in Abruzzo nel 2021 è cresciuto del 6,3% a fronte di un 6,6% in Italia in base ai dati Istat. Lo si apprende dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia in Abruzzo, presentato oggi nella filiale dell'Aquila dal direttore Giovanni Giuseppe Ortolani. In Abruzzo, come nel resto del paese si legge, il 2021 è stato segnato dalla pandemia dopo il marcato rimbalzo registrato nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2020 caratterizzato dal lockdown. Il recupero è proseguito nella seconda parte dell'anno. Nell'industria in senso stretto sarebbero stati quasi completamente recuperati nel corso del 2021 i livelli di attività pre-pandemia. Tornano a crescere le esportazioni. Dopo la forte contrazione registrata nel 2020, le esportazioni sono nel complesso cresciute, più 5%. I comparti della gomma, plastica, metallo meccanico e della chimica hanno contribuito positivamente all'incremento dell'export. Nel settore delle costruzioni, la produzione si è portata su valori ampiamente superiori a quelli precedenti la pandemia, beneficiando degli incentivi fiscali. Il quadro occupazionale della regione è migliorato nel corso del 2021. Il numero di occupati è aumentato, più 1,9%, come pure la partecipazione al mercato del lavoro, tasso di attività al 63,9% dal 62,8% del 2020, e che si attesta tuttavia su livelli inferiori a quelli precedenti la crisi sanitaria. I consumi, pur risentendo del rialzo dei prezzi di beni e servizi, sono risultati in ripresa, più 4,1% in termini reali dopo il forte calo del 2020. La propensione al risparmio si è ridotta. Sulle previsioni economiche per l'anno in corso, pesano le incertezze legate all'evoluzione delle tensioni sui mercati delle materie prime e dei beni energetici, che hanno già determinato nel 2021 una rilevante crescita dei costi di produzione delle imprese e rallentamenti dell'attività produttiva. Il quadro del 2021 è stato complessivamente positivo, ha detto il direttore Ortolani, per il 2022 si fa i conti con l'aumento dell'inflazione, crisi energetica e conflitto ucraino. C'è molta incertezza, ha concluso. Speriamo che gli eventi volgano in senso favorevole.